Una giornata bellissima di sole, una giornata di festa, una giornata che premia anche il lavoro di tanti volontari che in questi mesi hanno dedicato il loro tempo a costruire questi allestimenti, questi splendidi cari mascherati. Il benvenuto di Pieve di Soligolo si vede da questa grande affluenza di persone e il ringraziamento va a Cannivale di Marca per essere sempre stata costante nel promuovere questa iniziativa. Grazie a tutti.